Raga, come va? Mi piace la canzone di sfondo? L'ho impostata io? Al dieci anni però me ne frega. Allora, no scherzo, togliamo perché oggi sarà un video un po' particolare per il quale avete visto sotto nel titolo. Oggi andremo a rispondere domande. Domande di chi sarete? Ho 14 iscritti, come cavolo fai a fare delle domande? Ragazzi, vi spiego, volete che vi spiego? Allora, a parte che saluto un'amica mia che si chiama Marina che mi ha aiutato a fare questo video, quindi bacio e abbraccio Marina che è lei che mi ha fatto le domande e andremo a rispondere. C'è lo suo Hangout, quindi vado a vedere Hangout, qua sul tablet di mio padre, ecco qua, metto Hangout e qua ci sono tutte le domande, forse, ok, ok, la prima, ok, sì, la prima è, no, la prima non mi ricordo qual'era però se no ho anche una prima, ok, sì, vabbè, ok, non sono così personale, le sto cercando, ok, trovate e allora, me l'hanno preguntata tutte Marina, allora, cos'è quello che ti piace di più di te? Raga, mi piace come disegno, perché per me disegno bene, non benissimo, mamma mia, Picasso, insomma, sì, ti trucchi? Allora, spiego, perché nei video non vengo truccata? Uno, io non mi trucco spesso e se mi trucco è per qualcosa in concreto, cosa in concreto? Boh, voglio truccarmi quel giorno? Mi trucco! Qual è il tuo TikToker preferito? Vi spiegherò perché mi stanno parlando i TikTok alla fine del video, quindi non scorrete la barretta questa, aspettate, allora, preferito, una che si chiama Paola Cogliantes, che è di coso, di Spagna ovviamente, poi, salato e dolce, salato o dolce, ragazzi, salato tutta la vita. Colacao o Nesquik? Colacao sempre al life! Ok, eh, coso preferito? Cioè, posto dove comprare vestiti preferiti? Eh, Zara, che è una marca spagnola, non so se lo conoscete in Italia, però molto bello. Migliore amica, non so se potrò fare video perché sua madre non li lascia uscire su YouTube, ma una che si chiama Miriam, che è molto amica mia, che la saluto, se sto guardando questo video non credo perché, cioè, non sa che ho un canale YouTube, quindi, vabbè. Poi, nemica, non ce li ho, è che non ho nemiche, raga, non ho nemiche, cioè, ovviamente c'è qualcuno che mi sta antipatico, ma è nemiche, proprio, Dio mio, la voglio uccidere con un coltello? No, 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 no. Eh, allora, ci ho preferito hamburger tutta la vita, come ho preferito? Viola. Poi, rosa o viola? Viola. Cos'è quella cosa che meno ti piace di te? Lettering, oppure fare le notes, tipo bullet journal, no, raga, non ce la faccio, proprio. Instagram, Snapchat o TikTok? Vi spiego. Allora, io non ho Instagram, Snapchat mi piacerebbe tanto perché è molto bello, io con Tiago c'è stata una stagione, me ne stavamo girando i film, andavamo anche a ristoranti e facevamo Snapchat, facevamo delle stories su Snapchat, e raga, non so quale scegliere perché Instagram più TikTok è quello Snapchat, quindi io crederò Snapchat perché TikTok ha i suoi difetti, mentre che Snapchat non l'ho visto molto, quindi non so se ha difetti o è proprio perfetto. Quale tiktoker che più odi? Una che si chiama la Batres e la Davida, che sono spagnoli, e sono odiose. E il tiktoker che io adori, l'ho già detto, quindi. Ok. Luna o sole? Luna tutta la vita. Matita o penna? Cos'è questo? Matita. L'ultima. Apple o Android? Android? Vai, venite, commentari di hate, benvenuti. Apple, tutta la vita. Apple, sapete perché? Sto registrando con un Apple. Apple. Quasi tutto l'Apple, meno il mio telefono, che è un Samsung Ace 2, che è più vecchio di chi, Dio sa cosa. E beh, saluto come sempre Marina, che mi ha aiutato a fare questo video. Un bacio, un bacio, un bacio, e vi volevo dirvi una cosa prima di andarcene. Io ho un account tiktok e un account twitch. Ve li lascio qua sotto in descrizione e noi ci vediamo in un post, in un prossimo video. Sapete perché twitch? Perché ve l'ho già spiegato che twitch per fare le live e tiktok, perché voglio averlo. e mi potete inviare la solicitudine e io ve l'accetterò, se so chi siete, se non lo so. Forse no? Non lo so. Non sono ancora pronta per queste cose, devo chiedere a mia mamma se mi lascia mettere l'account pubblico, perché ce l'ho di amichevole. Vabbè, ragazzi, vi lascio anche il tiktok di Tiago, se lo potete seguire. Questo sì che, credo che questo, sì che è pubblico. E noi ci vediamo in un nuovissimo video. Ciao! Grazie.